Soprattutto per quello che riguarda le navi cosiddette delle ONG, quindi noi sosteniamo, è stata presa questa posizione nei giorni scorsi molto forte ed è stata ribadita in questi impegni internazionali che anche il Ministro degli Esteri ha avuto nelle giornate ultime, oltre che il Presidente a Bruxelles, sul fatto che noi riteniamo che sia un problema che va condiviso un po' con i paesi di bandiera. Insomma questo problema della presenza di navi che battono bandiera di paesi che poi fanno salvataggi e che quindi ci vedono sistematicamente poi destinatari dell'assistenza e dell'accoglienza di queste persone. Noi riteniamo, c'è tutto un regresso, lo sapete, riteniamo che insomma non segue a principi internazionali che prevedono che quando si sale a bordo di una nave in acqua internazionale è come se si fosse saliti su un'isola e quindi sotto leggi territoriale, il governo territoriale di quel paese e quindi questo dovrebbe far radicare gli obblighi di assistenza. Questo è il presupposto, il provvedimento che abbiamo condiviso, condiviso ovviamente un provvedimento interministeriale ma insomma in qualche modo l'abbiamo portato a conoscenza di tutti i colleghi, quindi ringrazio per questo. Anche il Presidente perché è il primo provvedimento con il quale formalizziamo in buona sostanza una presa di posizione nei confronti della prima delle nave dell'ONG che ha forzato un po' e quindi entrati in acqua territoriali italiane, dirigendosi verso Catania, adesso in una posizione che non saprei, a qualche miglia nautica è da Catania, lo ha fatto senza ottemperare a quelle che erano state le richieste che tramite dei canali diplomatici gli erano stati fatti, cioè quelle di fornirci indicazioni di quali persone, l'identificazione delle persone a bordo, dove erano state tratte in salvo e quindi quali erano le oggettive condizioni e soprattutto un elemento fondamentale secondo noi, quello cioè di aver informato le persone delle opportunità che la normativa europea concede, quello che gli danno fastidio? Grazie, scusa. Tecno, ma il Ministro Giorgetti che è anche un... Dicevo ecco, ci tengo a sottolinearlo, noi abbiamo richiamato l'attenzione attraverso il Paese di Bandiera all'obbligo di offrire a queste persone, quello che è uno dei baluardi dell'architettura normativa internazionale, cioè quella della possibilità di essere informati sulla possibilità di fare richiesta di protezione internazionale. Non ci hanno dato conto, le risposte riteniamo non sono state all'altezza delle nostre aspettative, è stato di fatto che stanno entrando in acqua e territoriale, nella fattispecie c'è questa nave, la prima Humanity One, poi se ne è aggiunta un'altra ad Oras, ma è un caso diverso, poi vi dirò, e si sta dirigendo verso Catania, abbiamo adottato un provvedimento interministeriale ai sensi dell'articolo 1,2 del decreto legge 130 del 2020, che in buona sostanza abbiamo imposto a questa nave, allora quando arriverà, di ovviamente fermarsi in rada, adesso poi si vedrà, insomma le operazioni dal punto di vista tecnico verranno condotte dai tecnici, allora quando arriverà, e potrà permanere in acque nostre, territoriale, solo per il tempo necessario per consentirci di vedere a bordo tutte le eventuali emergenze di carattere sanitario, di altro tipo, insomma delle persone, delle quali, voglio permetterlo, ci faremo carico, quindi noi prenderemo tutte le persone che o perché versano in condizione di età minore, o perché come si è detto, ma a mezzo stampa, non attraverso i canali diplomatici, ci è stato detto che ci sarebbero donne incinte, oppure donne con bambini piccoli, gente con la febbre, ripeto, registriamo, ci è stato risposto, non ci è stato detto, l'abbiamo appreso insomma da canali informali, diciamo di comunicazione informale, quindi voglio segnalare questo approccio, noi rispettiamo le persone, rispettiamo le esigenze umanitarie, rispettiamo le esigenze delle emergenze di queste persone, però all'esito di questa verifica, le persone che non dovessero versare, secondo gli accertamenti che faranno gli organismi nazionali competenti in queste condizioni, dovranno essere, come dire, riportate fuori dalle acque territoriali, quindi la nave verrà invitata a lasciare le acque territoriali nazionali successivamente. Poi vedremo, vedremo che cosa succede, questa è una partita ovviamente, nel frattempo è successo che a Bruxelles ci sono stati dei contatti, lo sapete, su questa partita c'è stata la Francia che ci ha fatto una prima apertura, un'apertura che però non tocca, è molto importante, noi la consideriamo molto importante, anzi credo di, per parte mia, ringraziare l'omologo francese alla Francia per questa apertura che è stata fatta, insomma di poter accettare la possibilità di far sbarcare lì una delle navi, altre navi, l'Ocean Viking che ha chiesto il Place of Safety e appunto alla Francia. È un segnale importante, non riteniamoci risolvere il problema della responsabilità dei paesi di bandiera, quindi è una situazione che stiamo seguendo e che va seguita ora per ora e, ripeto, voglio segnalare che la soluzione che adottiamo è il primo atto di una politica che abbiamo condivisa di non deflettere rispetto agli obblighi umanitari che vanno sicuramente posti in essere nei confronti di persone che vengono raccolte in mare, vengono trattenute così a lungo, non da noi, ma vengono trattenute così a lungo in condizioni, sta peggiorando anche le condizioni del mare, ma nello stesso tempo senza deflettere rispetto a quelle che sono le esigenze di mantenere il punto sul rispetto degli obblighi di paesi di bandiera.